chiusa Parenzi Luca un po' di futuro ce lo dici ci fai capire qualcosa in più non so io credo che il discorso al momento direttore sportivo e allenatore sia nei principali cosa ci dici di nuovo non so so che ieri sera hai dato un 25% a Tudor l'ho letto dalla tv non so se ci puoi dire altro qualcosa mi è stato mi è stato chiesto cioè allora qual è tutto partiva dall'idea che dalla redazione ti muto Walter vai tranquillo ti muto così puoi parlare tranquillamente lì nella corsa alla panchina della Juventus che includeva Allegri che includeva Allegri un lotto di nomi e alla fine sono rimasti Allegri e Tudor il balottaggio Allegri e Tudor allora io ho detto guardate che però Allegri ha il 4,49% di possibilità a oggi cioè a ieri di essere la natura della Juventus il prossimo anno per quanto diciamo ho messo insieme io e allora ovviamente da un studio la domanda e scusa allora quanto ha Tudor il 95,51% certo 94,51% ah no no tu hai dato 4,49% esatto esatto e allora io ho detto no non è così perché voi rappresentate questo ballottaggio Allegri resta o se no il successore è già definito perché è apparecchiato perché rispecchia le caratteristiche di identikit perché può lasciare Marsiglia perché è già stato da voi e quindi io ho detto no calma Tudor non è 95 al 25 di quella di quella parte lì e allora è uscito poi sui social questo 25 Tudor ma era per rendere l'idea che c'è un ventaglio di ipotesi ci sono ventaglie di ipotesi a quali sono incluso anche Igor Tudor che però per me non è mai stato il vero favorito anche se forse è più facile da prendere e per logica sarebbe anche un allenatore ben accolto dalla tifoseria pronti via ben accolto dalla tifoseria Luca questa top five ce la fai oppure no ma che serve le top five è roba c'è roba degli anni ottanta dobbiamo fare cose nuove però non ricorda che non devi fare promesse non puoi mantenere qua abbiamo io io ho sempre mantenuto l'indagine giochiamo tutto noi Luca ti chiede il nostro amico dear Onizuka che conosciamo bene se hai lavorato sulla notizia della Provence che diceva Tudor si libererebbe così il cos'ha ma la Juve poi l'ha cassato dalla lista non si è capita bene come notizia ah sì l'ho letta anch'io sì ho visto il lancio ma no io non credo che Tudor sia stato depennato o meglio se Tudor è stato depennato è perché la Juve ha individuato l'obiettivo trovato un po' di terreno fertile e ha deciso evidentemente tu la pensa di aver già connessione tra ballanti lo stesso discorso varrebbe lo stesso discorso ma tanto non c'ha linea lascia per hai qualche problema di connessione Luca eh intanto salutiamo Antonello che ci raggiunge hai qualche piccolo problema di connessione ma tu comincia a parlare e mi pare che stia di ovviamente ma infatti ma infatti non andiamo a prendere tra l'altro sta pure in mare aperto cioè come fa a pensare di connessione ma non sono io sei tu Luca che è la propria mia connessione sei veramente guarda accusiglia io oggi ho cercato apposta pensa stamattina la cala dove prendeva meglio il telefonino temperatura ottima purtroppo non posso fare il bagno però allora no stavo dicendo ovviamente lo stesso identico discorso cioè la Juve non la Tudor può valere anche se la Juventus avesse preso consapevolezza di non potersi o volersi separare da Allegri ma non credo che sia non siamo già a quel punto lì cioè la Juve non non ha già eh definito eh i tratti del suo prossimo allenatore o della riconferma di Allegri al punto da chiaro richiamare Tudor e dire guarda stato bello ma non sarai tu devo anche dire Luca che tu se non sbaglio dai quindi un 70 per cento aspettanto ti ho dovuto mutare perché c'è un po' di rumori sotto aspetta aspettanto aspetta aspettanto vai di che è successo scusate non ho mica capito tutto non viene più aspetta un attimo vi ora ora poi parliamo di questo ma Luca dicevo tu se non sbaglio quindi Luca dai circa un 70 per cento che l'allenatore non sia né Allegri né Tudor ora noi giochiamo sulle percentuali ma quindi diciamo mi tengo mi tengo uno spazio largo sì mi mi tengo uno spazio largo sì rispetto a due nomi che per due motivi diversi hanno 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 la possibilità di esserlo ecco Allegri al 4,49 e Tudor al 25 per cento allora Antonello intanto ti chiederemo per chiusare definitivamente sul discorso patteggiamento lo sai 718 mila euro sì 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 puoi fare un discorso o passiamo già oltre siamo sul futuro però se vuoi chiusare no 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 beh beh alla fine diciamo c'è una parte di una parte di contentezza in questa cosa perché comunque il secondo filone si chiude con la multa come siano chiusi per capirsi so i patteggiamenti dell'Inter all'epoca per le plusvalenze la realtà è che sarebbe avremmo dovuto avere due multe magari ma non di più cioè è la prima che non va bene però era evidente secondo me dalla parola di Calvo che di domenica pre partita quando ha detto una pietra sopra c'è era evidente che non poteva essere solo quello c'era una seconda parte che lui non voleva ancora dire e che era già stata concordata mi fa piacere anche lo stralcio della figura della 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 posizione di Andrea a particolar modo non è non stralcio scusami la 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 contrattazione separata chiamiamola la patteggiamento separato la tentativa di patteggiamento separato che poi credo ci sia già un principio d'accordo e a molti che mi chiedono della carta segreta non so se sia sta usata se questo patteggiamento fa parte anche diciamo in qualche modo di alcune armi che avevano che aveva in più la Juventus perché io non più tardi di qualche settimana fa avevo previsto 10 punti e 2-3 punti qui addirittura è andato meglio delle più rose aspettative il secondo filone certamente perché il secondo filone si paventava la serie B la revoca degli scudetti con penalizzazioni di altri 20 punti altri dicevano 20 punti cominciano ad essere una cosa completamente diversa se la cosa finisce qua e non c'è ulteriore intervento dell'UEFA come io penso la Juventus va in Europa League o in Conference League e tra l'altro un po' ci va anche con delle colpe perché gli ultimi due partiti non è che l'ha persa l'UEFA l'ha persa la Juventus detto questo io ho percepito in una breve whatsapp con un dirigente di Juve insomma soddisfazione non globale ma per come si era messa la situazione cioè la Juventus ne esce praticamente se ne uscisse così diciamo a classifica cristallizzata oggi è come se la Juventus avesse fatto una pessima annata e è andata in Europa può capitare di arrivare quinti o sesti o settimi no? o anche in Conference può capitare l'annata storta tutto sommato dopo tanti anni quanti anni sono che ci qualifichiamo consecutivamente alla Champions? una marea sono neanche quanti forse dal settimo posto di Zaccheroni eccetera quindi non vedo cioè la vedo il bicchiero lo vedo mezzo pieno non mezzo vuoto ad oggi è ovvio che poi se partiamo dall'ingiustizia per cui gli altri fanno plus valenze con le baby plus valenze vedi l'Inter o ma tutti gli altri perché poi sono tutti praticamente o la situazione si met e noi invece no perché la Juventus è più colpevole degli altri si applica una regola diversa e l'ha detto calvo ha detto ci deferiscono per un articolo e ci danno la posizione come se avessimo commesso un altro tipo di reato sportivo quindi tutto sommato e poi sentivo prima Luca e concordo pienamente con Luca che dice da oggi si può guardare avanti programmare perché se tu non sai quanto hai in budget per le coppe l'anno prossimo non sai quanti punti avrai di penalizzazione l'anno prossimo magari parti con 5 6 hai 1 o 20 punti di penalizzazione ma cosa fai chi sono i calciatori che vengono a Juventus chi sono gli allenatori che vengono a Juventus i DS che vengono a Juventus quindi oggi la Juventus probabilmente potrà andare da Giuntoli da Tudor o da Zidane o da chi vorrà come prossimo allenatore speriamo e dirgli questa è la situazione la vuoi prendere questa squadra con quali programmi sappi che non ci sono tanti soldi ribadisco e ieri l'ho raccontato in privato a Massimo che è rimasto stupito che vedo anche tu no? dimmi dimmi la storia della chiacchierata con uno di Exor sì sì me l'hai detto quindi Massimo capisce bene quanto ci sia in questo momento diciamo e aveva ragione Luca anche la connessione di Antonellone non è la migliore io devo scappare ragazzi colpo mi dici solo se tu pensi che Allegri resterà e se no chi arriverà sensazioni non ti chiedo per il bene di tutta la Juventus compresi i tifosi spero che Allegri vada c'è bisogno di entusiasmo e di una boccata e cosa pensi che accadrà? secondo me arriveranno un accordo e chi arriverà? io credo uno tra Tudor e Tiago Motta il mio sogno si darà ma è improbabile per ovvie ragioni ti seguiamo come sempre sul tuo canale Colpo Gobo YouTube lo seguiamo sempre ciao Colpo ciao ragazzi ciao grazie come sempre Walter tu che percezione hai su sul discorso allenatore ora torna Luca anche Walter tu che sensazione hai Colpo ha detto Luca per il bene della Juve e dell'ambiente dice è meglio separarsi lui ha fatto due nomi ha detto Tiago Motta o Tudor secondo lui arriveranno Walter le tue sensazioni chi è che l'ha detto? chi è che l'ha detto? Colpo Gobo ah ok ma guarda io sinceramente quello che ha detto Colpo Gobo su Allegri lo sottoscrivo anche perché non posso pensare che riprendiamo settembre con Luca che commenta la Juentus e iniziamo di nuovo con la prima sconfitta il primo pareggio iniziano di nuovo le critiche a Massimiliano Allegri io ho sempre visto che quando arriva il nuovo direttore sportivo e io sono convinto che Cristiano Giuntoli sarà il nuovo direttore sportivo della Juentus prenderà un suo allenatore conoscendo tramite interposta persona e faccio anche il nome e cognome perché non ho problemi Giancarlo Romairone non so se voi lo conoscete Romairone Romairone è colui il quale era direttore sportivo alla Provercelli Cristiano Giuntoli va al Napoli e Romairone e Romairone prende il posto di Giuntoli al Carpi è colui il quale Giuntoli lo porta al Bari quindi come qua di Vercelli non so se l'avete mai sentito però ha giocato anche a calcio a certi livelli in Serie A nel Genoa quindi io sono convinto che Giuntoli se danno carta bianca difficilmente può è compatibile con Massimiliano Allegri ma anche per il bene del stesso di Massimiliano Allegri con tutte le critiche che sono piovute addosso insomma io mi auguro che lui faccia lui stesso un passo indietro andando a parlare con John Elkan perché lui mi si dice che ha poco confronto con i nuovi dirigenti della Juventus e quindi non lo so se vale davvero la pena a ripartire di Massimiliano Allegri poi il futuro allenatore della Juventus permettimi posso dire una cosa da anti-juentino in questo momento io prenderei conto cioè se io dovessi ricostruire una squadra ma Antonio Conte è il massimo poi lascia perdere quello che è successo eh sì allora confermo confermo che Conte era era lo stadium confermo che che era in tribuna Agnelli e confermo anche che pare abbia provato grande emozione all'ingresso anche per insomma il contesto la partita della sold out insomma resta il punto che comunque questo è diventato posso dire solo una cosa che io non ho mai conosciuto personalmente Antonello e quindi mi fa piacere essere qui con lui e con voi volevo solamente dire quello non ci siamo mai confrontati mi fa piacere piacere mio Walter poi c'era un ma c'era un ma penso che ormai è diventato un di solito quando uno dice ma mi fa piacere non c'è Antonello ma se esce dalla diretta mi finisco no no sto scherzando Antonello Antonello e poi ancora Luca il tema comunque dico 8 minuti poi devo ma il clima è diventato invivibile per Allegri o no sì per me sì allo stadio no chiedo cioè anche l'altro giorno allo stadio allo stadio io non c'ero quindi ci sono stati fischi cose un po' di contestazione o no ma è più alla società se non sbaglio io non c'ero purtroppo allora Anto e Valtteri sfruttiamo questi 8 minuti di Luca poi facciamo le nostre analisi Antonello su tutto il resto con domande Luca tantissimi stanno chiedendo di Conte tu ci hai fatto questo accenno alle sue emozioni ci fai capire qualcosa della situazione è immaginabile un ritorno ai Conte Luca cosa ti risulta in questo momento non è in programma non è nei programmi o meglio non è nei programmi di chi in questo momento sta tirando le redini della società conoscendo più o meno i paletti con i quali gli viene chiesto di ragionare quindi Conte non è nei programmi se John Elkan decidesse di prendere Conte il prossimo allenatore della Juve sarebbe Conte ok ma competerebbe a lui così come anche la soluzione della questione Allegri il filo il sottilissimo filo il 4,49% di filo è nelle mani di John Elkan poi io non posso e non credo che John Elkan vorrà occuparsi di tutte le scelte fondamentali della Juventus questa questione di Allegri sicuramente non può che occuparsi in ultima battuta lui però anche un'eventuale ipotesi Conte di nuovo dovrebbe far capo a lui possiamo guarda in questo momento ti dico non essendo nei programmi Luca Allegri confida nella stretta di mano con Elkan questo è il suo confida confida nel nel far capire che lui merita il terzo anno dell'Allegri Bis vediamo gli argomenti ma credo che non ci sia una grande disponibilità ad ascoltare magari sì però devi avere veramente argomenti forti e torno a dire alcune alcune sue scelte strategiche all'interno negli ultimi due mesi secondo me lo hanno messo in una posizione molto scomoda anche rispetto a rivendicare quello che Allegri rivendica l'aziendalismo la Juve ho scelto la Juve per il cuore perché mi aveva chiamato squadre ben più forti più belle che avrebbero vinto di sicuro a prescindere da chi fosse allenatore praticamente italiano al Napoli Luca ti chiedono in tanti e perché mi chiedono questo perché tanti hanno scritto oggi che italiano va verso il Napoli sì ho visto che anche Ilario di Giovanni Battista ha dato questa cosa qui ah non lo so ok allora sì non so se l'ho letto da lui ma quindi io direi che guarda oggi ti dico se Allegri ha il 4,49% di rimanere a Juventus Conte ha il 4,49% di diventare allenatore da Juventus stessa possibilità Allegri e Conte poche a oggi comunque il Napoli continua con la linea giochista 25% Conte 4,49% Allegri 4,49% Conte scusami Tudor 25% stiamo arrivando siamo al 35% Luca circa allora Luca c'è qualcuno che ha più del 25% di Tudor uno solo o circa eh uno solo per me ah c'è uno che ha più del 25% di Tudor sì uno solo chi è? ti farebbe piacere condividerlo sì ve lo dico perché poi devo andare ti farebbe piacere guarda diamogli un 26 simbolico ok per rappresentare quella cosa lì che tu dicevi ma c'è qualcuno che anche di Cortomuso o di tanto ma qua di Cortomuso aspetta silenzio secondo voi rullo di tamburi rullo di tamburi mamma mia vai allora fermi stiamo sto dicendo allora su Conte vi ho fatto il quadro vi ho anche detto cosa ha pensato quando è entrato qui eh Allegri la situazione ai miei occhi è non chiara di più in questa fase chiarissima tutto quello che vi ho detto in ultimi tre giorni fa Tudor è un nome di questo management ma non è secondo me il nome di Giuntoli Giuntoli però potrebbe anche ritenere adatto Tudor 25% viaggiamo sullo stesso tipo di identikit e quindi sullo stesso tipo per esempio anche di quota ingaggio ma non è un allenatore libero tra virgolette e questo ha fatto sì che la Juve potesse una volta venuta l'idea si stia muovendo con grande attenzione grandissima attenzione gli diamo un 26 simbolico Massimo ti va bene? diamoglielo aspetta facciamo così voglio vedere le nostre reazioni in diretta no ti va bene il 26 non metto il decimale è simbolico 26 simbolico ok? ci stai? vuoi il nome? vuoi il nome? per me solo uno in questo momento è leggermente adatti a Tudor a meno che John non decida che l'allenatore lo fa lui e si chiama Vincenzo Italiano davanti a Tudor clamoroso ragazzi clamoroso primi commenti allora italiano poco sopra Tudor si profila uno scontro Juve Napoli sull'allenatore attenzione perché nella volatona la sua è partita dopo e secondo attenzione è volata il Tudor è una volata molto lunga perché su questo management magari questo pensiero l'ha già fatto da settimane quindi non dico nome nuovo ma dico attenzione perché nella la Juve anche coinvolge anche Giuntoli questo nome sta facendo mosse quindi gli diamo il 26 simbolico Luca dici solo una cosa tu no me ne devo andare a oggi preferisci no no tu quando ti chiedo più altri scoop a oggi italiano Tudor tu chi prenderesti tu io italiano dici un proprio dici un proprio italiano un proprio dici un proprio italiano un proprio Tudor così ci lasci la discussione qua super identitario nel modo di giocare italiano sì mentre Tudor è un effetto di quello ha sempre fatto in conseguenza le squadre che ha avuto che ha ereditato scusate all'Udinese giocava 6-3-1 come giocava quello prima di lui per un anno e mezzo a Verona ha ereditato facendo bene l'Udinese la salvò il sistema Juric quando è uscito fuori un po' dal suo guscio ha cercato cioè Marsiglia ha cercato di riprodurre la cosa migliore che gli era riuscita in carriera io sto cercando Tudor non come persona che adoro e come Juventino che adoro ma come allenatore quindi la riproduzione del sistema Verona è un bene ma non benissimo vediamo se non posso dirgli che non dirti che quello è il marchio di fabbrica del gioco di Tudor ecco questo voglio dire Tudor sicuramente però potrebbe incendiare lo stadio italiano ha grande identità costante secondo me nell'ultimo anno ha tolto alcune rigidità del suo 4-3-3 mantenendo però comunque un'identità forte non ha sbagliato praticamente un'annata nella sua stagione cioè quell'annata che dice oh flop ha fatto tutte le categorie viene dal basso giuntoli conosce benissimo tutti i percorsi del calcio italiano dal basso un po' meno preparato sull'estero Vincenzo Italiano secondo me le sue carte potrebbe giocarsene anche perché Vincenzo Italiano alla Juve verrebbe a piedi a piedi però italiano libero? no infatti infatti contratto 24 opzione 25 questa è la situazione ciao a tutti cioè dobbiamo aggiornare su queste cose eh ragazzi Lucone stasera c'è diretta? me lo devi dire tu eh penso di che giorno è oggi? martedì eh penso di sì no Virginia super Trump spero vivamente non sappiamo nulla non sappiamo neanche c'è diretta se volete questa sera sono disponibile aggiornamenti continui buttalo in mezzo però è un 26 simbolico per dirti che ci sono delle situazioni più fresche più eh che che magari non riguardano solo italiano che sono in essere prima cosa però bisogna capire con Max arrivare all'atto finale all'atto finale ciao